Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben trovati in un nuovo episodio del Magazine dei Gormiti Oggi il numero 14 con Koga Limited Edition Ragazzi lo aspettavamo da un sacco anche questo episodio, non vedevamo l'ora di andarlo a vedere e oggi lo scopriremo insieme Ma prima di iniziare questo video io come al solito invito a lasciare un grossissimo pollice dall'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i numeri del Magazine usciti finora Ragazzi li abbiamo fatti tutti quanti, quindi se vi siete perso qualsiasi numero lo potete recuperare qui sopra Inoltre prima di iniziare ci teniamo a salutare Matteo Mazzarella che mi ha chiesto di essere salutato sotto i video di Youtube Quindi ciao e grazie come sempre per seguirmi Raga, dunque, pronti ad andare ad aprire il nostro Koga Gold? Andiamo! Perfetto, eccoci qui, iniziamo! Apriamo il Magazine, ovviamente lasciamo il nostro Koga per ultimo Iniziamo come sempre dando uno sguardo al Magazine Come detto, numero 14 in regalo l'esclusivo Alpha Koga Gold Quindi tantissima roba, a differenza dello scorso numero che come vi ricorderete abbiamo trovato Lord Electron uguale Insomma, almeno qui abbiamo non solo un Gormita dorato ma anche della serie Alpha Quindi siamo proprio alla grande Allora, diamo come sempre un rapido sguardo alla rivista Come sempre possiamo trovare all'interno il fumetto I vari giochi da colorare O comunque vedete qua abbiamo la specie di puzzle Adesso non mi viene bene in mente come si chiama Comunque, qua abbiamo ragazzi tutta la linea Alpha Che come potete vedere abbiamo fatto, raga, praticamente tutto quanto Ad eccezione delle Hyperbeast Sul canale, vi lascio la scheda qui sopra Trovate tutto quanto Abbiamo Iskador fatta proprio poco fa Il titano degli elementi fatto Il bracciale Alpha, anzi il guanto Alpha fa I Gormiti da 5, i Gormiti da 8 e da 12 Fatti tutti quanti ragazzi Quindi mi raccomando Potete trovare tutto sul canale Intanto qua guardate che spettacolo questo poster Di Lord Eklos Allora, andiamocene alla fine Perché come sapete sono sempre molto curioso Di andare a scoprire Quale sarà il prossimo numero Attenzione, buono Abbiamo un altro Gormiti Alpha Alpha Saburo Gold In edicola dal 27 gennaio Quindi con il magazine dei Gormiti Ci rivedremo nel 2021 Perfetto Allora ragazzi Ecco qua il nostro Koga Bellissima la sua bustina Che c'è proprio l'artwork proprio Di Koga Quindi insomma Non ci possiamo sbagliare Ci dice che contiene Un Koga Gold Limited Edition Qua abbiamo un'altra immagine Qua abbiamo un'altra immagine della nostra figure Allora Pronti Andiamo Ad aprire Allora Come sempre All'interno di queste Buste Non abbiamo il codice Ma abbiamo il nostro Alpha Koga Allora ragazzi Molto Molto Bello Siamo tornati con La serie diciamo Vecchia Se così la possiamo chiamare Ovvero non quelli Che ci hanno regalato ultimamente Nel magazine dei Gormiti Vi ricordate Quelli più dorati Più luminosi E molto più esili Questi sono proprio quelli Normali da 5 cm Quindi quelli che conosciamo Fin dalla prima serie Che peraltro Sono anche quelli che preferisco Mi piacciono molto di più Sia a livello di colorazione Sia a livello di scultura Guardate che spettacoli i capelli Sembrano fatti veramente di magma E poi ragazzi Si tengono anche molto meglio in piedi Vedete Si vede proprio Rispetto a quelli piccolini Che fanno un po' fatica Allora Analizziamo la nostra figure È molto bello il nostro Koga Guardate quanti dettagli ha Sia sullo scudo Sia sulla sua armatura Molto Molto Bello Quindi questo Sicuramente è un Gormita da avere Perché lo potete Andare a collezionare Proprio A completare la collezione Che avrete sicuramente fatto Con i Gormiti da 5 cm Gormiti Alfa Questo era Il Super Alfa Koga Bello bello Finalmente Dopo il magazine scorso Si sono ripresi Perché questo è veramente Un Super Gormita E dunque Cari ragazzi Anche per questo video È davvero tutto Io come al solito Vi invito ad iscrivervi al canale Premere sulla campanellina Per restare sempre aggiornati Su tutte le nuove uscite Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Bello almeno come Coca Gold Io vi do appuntamento Adesso non so bene Quando torneremo a parlare Di Gormiti Perché di Gormiti Alfa Abbiamo fatto praticamente tutto Mi mancherebbero solo Le Hyper Beast Che sto facendo Un po' di difficoltà Per reperirle Non so se le porterò Magari si Fatemelo sapere sempre Qui sotto Mi raccomando Iscrivetemi Qui da Visio E dal Magazine Dei Gormiti È davvero tutto Io vi mando Un grosso saluto Ciao ciao